6 gradi è il titolo dello spettacolo di Giobbe Covatta in programma sabato 18 novembre al Teatro San Filippo Neri. L'iniziativa organizzata dal Circolo Legambiente Lucucale di San Benedetto in collaborazione con Fabrizio Sciamanna, esperto in finanza sostenibile. Viviamo in un contesto socio-economico in cui le scelte che facciamo hanno enormi ripercussioni. Ogni nostro gesto, anche quello più banale, lascia un segno nella nostra vita, in quello della nostra famiglia, della comunità in cui viviamo e non ultimo nel mondo. Le scelte che facciamo ogni giorno e anche quello che non facciamo, penso per esempio alle scelte per quanto riguarda il consumo, ma anche per esempio l'impiego dei nostri risparmi può fare una grandissima differenza. C'è bisogno però di maggiore sensibilizzazione e consapevolezza. Il problema è che quando poi si va a parlare di ambiente, generalmente la comunicazione cade in tonalità negative. Lo spettacolo di Giobbe Covatta, 6 gradi, invece, vuole raggiungere questa sensibilizzazione attraverso anche il linguaggio della commedia. Portandoci nel futuro in una terra più calda e meno ospitale. Che terra lasceremo ai nostri nipoti, a chi verrà dopo di noi, lo scopriremo il 18 novembre alle ore 21 al Teatro San Filippo Neri. Grazie.